Quando parliamo di ludoscritture, che cosa intendiamo in realtà? Sono delle semplici forme di scrittura che servono in qualche modo a prendere confidenza con le parole. Sono attività ludiche, quindi generalmente divertenti. Qual è l'intento di questo corso? Quello di offrire agli insegnanti degli strumenti da mettere insieme ad altri nella propria cassetta degli attrezzi da poter utilizzare durante le lezioni, durante gli incontri con le classi o anche per le insegnanti di scuola dell'infanzia nei incontri di gruppo con i bambini. Anche se i bambini non sanno scrivere, possiamo comunque giocare con le parole e ci saranno degli esercizi pensati anche per loro. Le insegnanti che parteciperanno al corso giocare con le parole, le ludoscritture, formarsi divertendosi avranno già modo durante il percorso, quindi durante i tre webinar di sperimentare direttamente alcuni di questi strumenti e eventualmente esercitarsi tra un webinar e l'altro per poterne poi fare racconto nel webinar successivo e condividere anche con gli altri l'esperienza fatta accrescendo così un'ulteriore consapevolezza.